Ad oggi il campionato della Tivoli è come lanciare una moneta. Una volta è scelta essa, vinci e respiri, quella dopo esce croce e vai al tappeto. Serve stabilità, sì, ma la domani perché oggi la Tivoli cerca la vittoria contro una Vigor Senigallia, forte in salute ma non invincibile. Da Gabriele Cascella, buon mercoledì e buona sere D con Tivoli Vigor Senigalli. Di Mancini, prova a mettere al centro, rimpallato, Kerjota secondo tentativo, palla ancora buona per Baldini, Kerjota, azione avvolgente della Vigor Senigallia, Kerjota in porta, palla che si abbassa pericolosamente all'ultimo secondo, c'è stata deviazione, calcio d'angolo Vigor. Arriva anche la chiusura però da parte di Mancini, comunque rimessa per la formazione di Pascucci. Ancora Rucci a tanto campo, non stoppano troppo felice, poi scarica il destro, è il primo tiro della Tibur, ho visto di meglio. E' imbucato verso Broso che arriva dentro l'area di rigore, Valentini prova a tenerlo, Valentini senza fallo, Broso riesce comunque a difendere il pallone, grande scarico verso Kerjota che si accetta, Kerjota a chiudere sul primo palo, palla fuori di poco. Kerjota da quella parte, buono il lob, il triangolo nello stretto che quasi si chiude se non arrivasse Rucci a chiudere tutto, che la toccata di mano, calcio di rigore. Folto con clave intorno al direttore di gara, Loris Graziano, calcio di rigore per la Vigor Senigallia, fallo di mano di Alessio Rucci. Qualche dubbio, rimane. Va Broso con il destro, spara alto, l'epnotizzato vento, rimane lo 0-0 a Rolindo Galli. E nel frattempo però arriva il rosso per un giocatore della Tivoli. Dopo il rigore sbagliato di Broso, Rucci è andato a dire qualcosa al direttore di gara, che non lo ha perdonato, arriva il cartellino rosso per Alessio Rucci, alla prima da titolare con la maglia della Tibur. Marini di prima, si chiude il triangolo, Baldini prova a far correre Schaeffer che ha detto la redigore, Schaeffer punisce la Tivoli, Schaeffer, bella azione, 0-1 Vigor. Spazio quindi per Gambini, ancora Baldini che è praticamente onnipresente in mezzo al campo, Baldini adesso ha anche proiezione offensiva, Baldini! 0-2, 1-2 terrificante della Vigor Senigallia, qui il numero 10 ospite, ha fatto un grandissimo gol. Che giota! Attenzione dentro a Baldini, la palla è perso, Bellello che la incastra sotto la traversa, con la Demi vuole al volo, 0-3 dopo due minuti della ripresa. Wilson Cruz riesce a scappare via, solo per un secondo in mezzo a tante maglie rosso-blu, alla fine in qualche modo Panaioli emerge e allarga verso Maurizzi che spara, rimpallato. Verso Broso che prova a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, lo chiude Valentini, è ancora però il duello che si riaccende, la sponda verso Baldini che cambia scenario. che giota, mette giù, una finta, il diagonale, poker della Vigor Senigallia, 0-4, che giota. Panaioli, Camilli, Panaioli, zona tiro, arriva con il numero 17, il buon colpo, l'aria è spenta, ha murato! E ancora buona per la Tibur dentro l'area di rigore, prova a guadagnarsi qualcosa a recchiuti. Vicino c'è Mori, triangolo ampio che si chiude e poi imbucata, preziosa verso Brioni. Ha tanto campo Brioni adesso, adesso arriva anche dentro l'area, Brioni apre il piatto, spara fuori, neanche di poco. Rimessa laterale in direzione di Maurizzi anticipato, Santarelli, tiro d'alleggerimento che per poco non diventa il tiro della domenica, palla fuori, neanche di troppo. Baldini preso in controtempo dal retropassaggio, c'è spazio per Panaioli che allarga dove c'è Camilli, dentro l'area di rigore, Camilli, forte, molto forte, ma anche molto alto. Mori, sponda verso Pierpaoli. Allarga bene dove arriva la corsa, ancora una volta di Ballello, che fa il quinto gol della Vigor Senigallia, nel recupero concesso da Loris Graziano. Vince 5-0 la Vigor Senigallia in casa della Tibur. Una partita che è un primo e un dopo ben definito, il 35esimo minuto del primo tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e un saluto da Gabriele Cascella.